Piaggio dentro il tempo che ci porterà alle soglie dell'eternità Appuntamento a teatro con Nel Vortice del Tempo, innanzitutto di cosa si tratta? Sì, è uno spettacolo in prima nazionale, il titolo è Nel Vortice del Tempo, la regia di Elisabetta Miacci, la compagnia teatrale archeosofica che è già stata anche al Teatro Petrarca con uno spettacolo precedente. Il debutto è al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, sabato sera alle ore 21 e la replica domenica in pomerigliana con inizio alle ore 17. È uno spettacolo, è quasi un musical perché ci sono moltissime musiche e canzoni originali scritte da tre giovani compositori, un romano, Emiliano Sciarra e due toscani, Alessandro Pelagatti e Filippo Costanti. È una storia che ripercorre il tempo dell'umanità, dalle origini, quindi ci saranno scene ambientate anche molti secoli fa, fino al mondo contemporaneo, una carrellata proprio nel tempo per raccontare cosa? La storia del simbolismo, attraverso 12 simboli fondamentali della storia del simbolismo, teatralmente vengono riproposte 12 scene in questo proprio viaggio nel tempo, lo potremmo definire. Grazie.